allora eccoci qua buon pomeriggio allora io sto col grenghiulino perché sono pronta pronta per impastare dopo lo diciamo allora vi faccio vedere uno suo dalla spesa proprio per quello che sto per fare e poi vi dirò cosa preparerò per stasera che cosa preparerò che cosa preparerò secondo te dimmelo nell'oreccia se no 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 allora va beh diciamolo prima che cosa preparerò allora farò una pastiera di grano quella napoletana quella la classica di pasqua e poi e che fai mi dirò grenghiulino e poi farò per cena preparerò la pizza piena farò la pizza piena farò la pastiera di grano e poi farò una pasta sfoglia con broccoli e salsiccia e per pietro ho preso poi vi faccio vedere durante la sua della spesa all'emmd già l'impasto pronto di pizza verace all'emmd dove metterò un po di pomodoro un po di mozzarella gli farò la pizza perché non ho tempo di impastarla allora sono stata sia l'emmd che al sisal orsita ed md allora partiamo subito mi serve ho comprato la farina perché devo fare sia la frolla per la pasta frolla cioè la frolla per la pastiera e mi serve la farina ovviamente per fare la brise che per la pizza piena pietro che stai facendo allora in offerta ho trovato la farina del mulino bianco questa proprio per le torte ne ho fatto un po di scorta proprio perché comunque ottima sia per le frolle per i dolci vedete e quindi ho preferito prendere questa e ne ho preso uno due tre quattro pacchi di questa farina mary p cristiana cina allora si sente forte poi al siso comprato sempre per fare la pastiera la ricotta di pego è proprio perché per non ritrovarmi all'ultimo che non si trovava più la ricotta di pego ma credete si si deve mettere di solito cioè di solito la tradizione richiede la ricotta di pecora maronna mi gioco sei nervosa né la ricotta di pecora però ovviamente se voi dove abitate non trovate la ricotta di pecora potete mettere anche quella di vaccino la classica oppure allora la ricotta di vaccino l'ho presa per fare la pizza piena quindi ho preso la ricotta di vaccino e la ricotta di pecora poi all'ipergi assisa pietro hanno visto la ira ho preso il cedro i canditi per metterli nella pastiera ovviamente a chi non piacciono li frullano lo rimettono ragazze poi ho preso il grano io già avevo un altro barattolo ne ho preso un altro perché così per pasqua ho già tutto poi sempre assiso ho preso un'altra un altro bicchiere stati fin un altro bicchiere per misurare le cose gli ingredienti ho comprato una macchina una macchinetta moca perché dovete sapere che la macchinetta mia la mia bellissima macchinetta si è di nuovo rotta e quindi la dovrò portare a giustare poi ho preso gli stampi nuovi per fare la pastiera di grano perché dovete sapere che questi sono gli stampi no questa è quella piccola ho preso la più grande allora ho preso gli stampi nuovi e questi sono gli stampi che si usano generalmente per fare proprio la pastiera di grano ok questo è quello che ho preso al sisa adesso alle md vi faccio vedere che cosa ho comprato allora prima cosa ho fatto una bella scorta di uova perché ci serviranno infatti ho preso c'era solo una confezione da 18 e poi preso due da 10 stati fai ecco qua stai fai poi ho preso lo zucchero che ce l'ho però comunque mi servirà per fare anche la pastiera di grano e quindi ho preso un altro pacco ho preso l'amido di mais o la maizena è la stessa cosa e questa l'ho comprata per metterlo un po nella pizza piena perché ci servirà anche questo anche se queste due queste due cose che sto per preparare già ce l'ho sul mio canale io comunque vi faccio vedere la mia e poi vi faccio vedere anche quella precedente che è molto più precisa sicuramente perché ragazzi il tempo e tiranno è pochissimo poi ho preso la scamorzina sempre per la pizza piena ho fatto una bella scorta di burro perché comunque mi servirà per fare sia la pasta brisee la frolla quindi ho preso tre pezzi di duro sperando che bastino poi ho preso la pasta sfoglia ho preso il fior d'arancio profolone dolce che mi servirà sempre nella pizza piena e poi ho preso anche il millefiori perché per la pastiera si può mettere sia il millefiori che il fior d'arancio non è uno quindi ragazze ha poi ho comprato dei misti salumi ho fatto più di una scorta proprio perché in settimana farò anche il casatello che è sempre un'altra ricetta che trovate sul mio canale e ho preso tre confezioni proprio per non trovarmi all'ultimo come l'anno scorso che finì tutto all'emmd e poi ho preso la vanillina ecco qua ho preso ne ho preso i due di pizza verace questa qua è la rotonda e la verace per fare prima perché ragazzi sicuramente tutto ciò che sto facendo mi impiegherà tutto il tempo fino a stasera poi ho preso i friarielli che farò nella pasta sfoglia ho preso il pecorino grana padano ho preso la mozzarella questa qua grattugiata per la pizza per dietro ho preso questo formaggio che userò sempre nella pizza piena e ragazze questo è quello che ho comprato oggi per preparare tutto quello che vi ho detto ed ora mi metterò subito all'opera anche se con le unghiette un po' sicuramente avrò difficoltà vedremo vedremo allora preparato già la pentola dove ho messo il latte e la buccia del limone fatta a pezzetti ora ci andiamo a mettere la cannella la trovo eccola qua ci vado a mettere la cannella e poi un po' di zucchero ecco qua mettiamo il zucchero accendiamo mettiamo proprio a fiammata quando poi uscirà il bollore adesso giriamo un po' gli ingredienti quando uscirà il bollore andiamo a metterci il grano allora è uscito il bollore io ci vado a mettere il grano nel latte che abbiamo precedentemente messo in pentola allora abbiamo messo il grano ora vado a girare se volete il grano frullarlo lo potete anche frullare comunque adesso aspettiamo che si addensi il tutto e poi che diventi tipo una crema e poi lo facciamo riposare e ora nel frattempo mi vado a montare la ricotta allora adesso ho preparato già la planetaria con la frusta ci vado a mettere la ricotta di pecora io vado a rompere le uova e mi servono 4 tuorli per la ricotta mentre gli albumi li conserviamo per la fine allora aggiunto il tuo rinuovo e ora aspettiamo che diventi tipo una cremina e alcuni ecco lì qua che dopo andranno montati e arriva ora vado ad aggiungere lo zucchero 200 grammi poi nell'info box ragazze nella descrizione provate tutto e facciamo andare allora guardate sta diventando come una crema quindi ricotta, zucchero e torli tuorli vado ad aggiungere giusto un altro pizzico di cannella questo per il sapore allora adesso stoppo perché ci vado a mettere un po' di limone di buccia di limone grattugiata allora ho messo la buccia grattugiata ed ora ci vado a mettere il fior d'arancio la fialetta ecco qua ora l'ultimo passaggio uno degli ultimi e mettere i canditi all'interno non ne metto molti perché ho fatto per il video per farvi vedere come viene ho fatto la dose più piccola quindi non verranno chissà quanti pastiere e va bene così il cedro allora messo tutto ciò riaccendiamo e vamos allora ora ci vado ad aggiungere un pizzico di sale facciamo andare un po' più veloce facciamo amalgamare un altro pochino e poi spegniamo allora mentre il grano finisce di cuocere quindi di addensarsi prepariamo la frolla allora io faccio un po' di dose in più per la frolla perché si escono pure qualche biscottino quindi io faccio la dose di un chilo anche se voi troverete le dosi per mezzo chilo di farina quindi per poi troverete diciamo tutto ciò che vi occorrerà ve lo trovate nell'info box io però faccio la doppia dose e vado a mettere me la preparo prima nella ciotola e poi la ripongo sul piano allora un chilo di farina un chilo di farina poi ci vado a mettere il burro eccolo qua lo andiamo a tagliare a cubetti però ovviamente prima devo pesare 400 grammi di burro sempre nella doppia dose allora andiamo a tagliare il burro che dovrà essere a temperatura ambiente quindi morbido non da frigo quindi vado a fare tutti i pezzettini di burro nella farina allora il grano con il latte e tutto il resto si è addensato guardate ora lo mettiamo a raffreddare io lo metterò in questa pirofila ok allora abbiamo spezzettato il burro nella farina ho messo il guanto ragazze per le unghie e andiamo ad amalgamare burro e farina a Allora abbiamo rotto albumi Abbiamo tolto albumi dai tuorli Allora burro, uova, farina Poi ci vado a mettere lo zucchero Ragazzi andiamo ad impastare Il grano si è raffreddato Adesso lo andiamo a mettere nella cremina E facciamo amalgamare tutto quanto insieme Allora messo il grano E facciamo amalgamare Allora Allora vado a trasferire tutto l'impasto In questa ciotola Allora ecco qua Ora Mettiamo qualcosa sopra un canovaccio E passiamo a stendere la frolla Allora ho preso la frolla che avevamo fatto riposare in frigo Andiamo a stagliare la pellicola Infariniamo un po' il litiano Ora prendiamo la frolla Eccola qua Vado a fare Vado a fare Dei panetti Due un po' più piccoli Che ci serviranno per fare le strisce E due un po' più grandi Che servono per fare proprio la frolla Nella teglia della pastiera Ora li andiamo giusto a lavorare un pochino Per renderli Stendibili E poi li andiamo a mettere Nelle teglie Allora ho steso già un disco di pasta frolla E la vado a mettere nella prima teglia Non vi preoccupate se si dovesse rompere un pochino Nella teglia la potete sempre aggiustare Allora Ora abbiamo montato gli albuni a neve E li andiamo a trasferire nella ciotola Ragazzi abbiamo riuscito il gelato alla nutella Avete visto? Io ti sono soddisfatto di essere gelato alla nutella E come l'hai fatta? Allora Praticamente ho messo il latte Dentro la nutella Quando era poco finita Quando la nutella era quasi finita Poi abbiamo messo il latte Poi fino alla metà della nutella Il latte Poi l'abbiamo shakerato per molto Poi l'abbiamo messo in freezer Praticamente poi Quanto tempo? Ho messo questo Quanto buono eh Qualcuno lo vuole provare Provare Aspetta un momento Pietro togliti Allora abbiamo messo gli albumi Ora giriamo dal basso verso l'alto E andiamo a incorporare gli albumi Vai? Eh vai Allora Non riempiamo troppo troppo Perché poi nel forno si gonfia Dopo È un problema Ecco qua Non riempio Vieni a presto Pietro o no? Sì Bravissimo Allora abbiamo messo La crema Ora andiamo a preparare Le striscioline Che vanno sopra la pastiera Vai Allora adesso andiamo a fare Le striscioline Brava Pietro Il mio cameraman Pietro sei il mio cameraman Mentre per tutta la vita Figuriamoci Prima o poi ti sposerai Andrai via Che andrò via? E ti dimenticherai di me Ragazzi questo è pazzo Allora Vedete come il pasta Pasta bene Perché poi devi fare Questo ma adesso facciamo le striscioline Per fare le striscioline Ci serve la rodellina Come questa Che fa il zig zag Sì sì Allora togliamo prima le estremità Per allineare Perché se no poi le strisce Non vengono precise Allora Una Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Ragazzi voi sapete che io non sapevo Che sulla pastiera Ci vogliono sette strisce Non sei Io nella mia vita Ho messo sempre sei strisce Tre e tre Ma mi dissero Che bisognava metterne sette Quindi L'ho scoperto Da poco tempo Ora Pietro Inquadra strisce E pastiera Andiamo a mettere Le striscioline Uno Due Tre E giù Mettiamo quattro E poi sopra Chiudiamo con Le tre Ho capito Stai facendo Un'inquadratura Da Veramente Da dieci E lode Ecco qua Ora Tutte le striscioline Che sono fuori Le tagliamo Sempre con la Rotellina Quindi le andiamo A Togliere Sotto il tuo braccio Per fare Quelle Inquadratura Eh lo so Pietro Però Quello che Avanza Ragazze Non buttiamo Niente Mi raccomando Perché Ci servirà Per le altre Striscioline O magari Per fare Qualche Biscottino Dopo Che mangerò io Eh Già stai Pronto Ecco qua Mamma mia Pietro Ma tu sei veramente In gamba Come cameraman E ti assumo Sei tutto Bodyguard Cameraman Mamma mia Ormai io faccio tutto Bravissimo Da bodyguard Fino a domani Non sono più Allora Quindi Eccola qua La prima Pastiera di grano È pronta Allora Quest'altra qua È pronta Lo stesso Qui ho messo Qualche striscioline In più Però l'importante Siano dispari Allora E anche questa È pronta Per essere Infornata Allora Prima Pastiera di grano Sfornata Mamma mia Scotta Ora Bisogna Attendere Per mettere Lo zucchero a velo Perché è calda Quando si è raffreddata Spolveriamo Zucchero a velo Ah Sorpresa Cosa stai gustando La pastiera Com'è Eh Scusate Mangiare Facciamola vedere All'interno Allora Con la ricotta di pecore Ovviamente È più asciutta Non è Un pasto È molto Molto Compatto È più buone Buono i clani Ma perché piangiamo Troppo buono Io amo la pastiera Eh vabbè Buon appetito Auguriamo Buona settimana santa Ovviamente Non perdiamo Lo spirito Dell'importanza Di questa settimana Oltre a degustare Le nostre Cose tradizionali Eh Tipo la pastiera Non funziona così C'è anche C'è anche un altro perché Di questa settimana Ma come Non si mangia solo la pastiera Il casatiello Il tortano Ho capito Ma lo spirito di questa settimana È la risurrezione di Gesù No A prescindere Dalle Dalle bontà culinarie Ma nessuno me l'ha mai detta questa cosa Perché non si mangia solo la pastiera Il tortano Il casatiello Eh Mary P È l'urmo È l'asepa L'uomo di Pasqua Ci vediamo dopo Pasqua Mary P Ma quando non vuoi Ma io l'uovo Eh Mi fai video con l'uovo Eh E facciamo i video con l'uovo Eh Buon appetito Mary P Ci vediamo nel prossimo video Ma voglio l'uovo della crudi Ci vediamo nel prossimo video Dove Sempre qua A casa di Alfie Nella cucina di Alfie Grazie di aver guardato il mio video Grazie che mi seguite sempre Iscriviti al mio canale A casa di Alfie Attiva la campanellina Ci vediamo nel prossimo video Ciao A casa di Alfie A casa di Alfie